musica 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 ok abbiamo la tua stupida chiave oh cari likeners divertete per tutta la famiglia ma quello di più adesso sono dati dei social ehm abbiamo cercato dappertutto e non abbiamo trovato nulla del genere no tu circuncite mi serve il tuo mi serve il tuo mi serve il tuo per favore se riscosi nel frattempo al tu puoi avvisarmi se il testimone dice ci sono dei cartelli oh un puzzle ok ma che diavolo state veramente cadendo per questa merda ti sembro per cosa ferma la stampa cartello per te oh amica adesso fermerò qualche segno di vita sono paura di qualche le parole è bloccato ehm ho per caso sentito pronunciare le parole uccello e splendente qualche secondo fa? non preoccupatevi era una domanda retorica le mie fantastiche abilità uditive non sono da sottovalutare ehm oh oh in realtà berly amico mio puoi mettere qui i tuoi dati di twitter per noi? cosa? certo che no qualcuno con un livello di cultura dei media alto come il mio non darebbe informazioni così facilmente voglio dire non mi stai neanche offrendo qualcosa in cambio sembra che qualcuno non si ricordi il suo login il debole usa il gestore di password no la ricordo hai delle prove? d'accordo tenete fate quello che volete con il mio account con 168 followers ehh RETENZIONE finalmente i numeri vanno su 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 AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Retio evitato Davvero volevi fare solo quello che mi attenta- Chris, pensi che cadere per una fregatura così semplice mi faccia perdere il rispetto dei miei fan? Hmm, non puoi perdere una cosa che non hai. Grazie per la visione!